Gentili telespettatori, buona giornata. Arrivano i droni in spiaggia che misureranno la febbre ai bagnanti. Questa è l'ultima della regione Lazio. Più che uno 007 sarà un agente zingaspia, uno 0037. E così misurerà i gradi della febbre del sabato mattina. Infatti sul litorale romano ad Ostia sbarcherà il drone della regione, una sorta di baywatch anti-covid ma senza la tradizionale torretta di avvistamento col binocolo. Gli occhi digitali di questi piccoli aeromobili a pilotaggio remoto zoomeranno invece dalla costa fino sopra la fronte degli spiaggiati che però potranno restare placidamente sdraiati sulla sabbia. Il drone viaggerò a un'altezza non inferiore ai 25 metri dal livello dell'acqua e a una distanza non inferiore ai 30 metri dalle persone, spiega l'asla di Roma 3. Il controllo delle temperature avverrà in modo automatico da parte del dispositivo Ostia sulla spiaggia. Il volo di ricognizione avrebbe dovuto perlustrare le spiagge di Ostia già da oggi ma un'allerta meteo ha fatto saltare i piani di volo in estremis a causa delle cattive condizioni meteologiche previste per il fine settimana. Ci vediamo costretti a rimandare le attività di sperimentazione col drone sui lidi di Ostia, previste per sabato 4 e domenica 5 settembre. Sarà nostra cura informarvi per la nuova programmazione, assicura l'ASL Roma 3. ma qui siamo a dei livelli futuristici, c'è il drone che ti misura la temperatura, me e mor e comunque sia caspiterina, siamo nel futuro e mi viene da pensare però poi ci sono i cinghiali che passeggiano per Roma. E poi oltre a questo non sanno come controllare le metropolitane, non c'è nessuno che controlla il Green Pass nelle metropolitane, nei treni locali, negli autobus e quindi dicono che lì il Green Pass non serve perché non sanno come controllarlo, però c'è il drone che ti controlla la temperatura a 30 metri d'altezza. Capite che c'è qualcosa che non torna, no? Questo paese futuristico col drone che ti controlla la temperatura e poi non sanno come controllare il Green Pass in metropolitana. C'è qualcosa che non funziona, vero? Beh. La perlustrazione del drone antifebbre durerà 5 ore, dalle 11 alle 6, col bis domenicale. Il monitoraggio dei dati verrà seguito da terra. Ogni qualche volta il drone rileverà una persona con la febbre, partirà l'identificazione mediante l'allerta al servizio medico di sorveglianza di supporto che segue le operazioni. Una volta arrivata sulla spiaggia, la nostra equip proporrà alle persone di fare ulteriori accertamenti anche mediante un tampone. Se la persona rinuncia di sottoporsi agli accertamenti non è ancora dato sapere, ma l'azienda sanitaria definisce futuristico questo progetto sperimentale che garantisce, verrà eseguito nell'assoluto rispetto della privacy. Immaginatevi, arrivano quelli col camice, non lo spiaggia, col camice, il coso per... Lei, cosa ho fatto? Il drone ha visto che... Ma io sono sotto il sole da tre ore, che sto prendendo il sole, immaginate, uno sotto il sole, che temperatura può avere, no? Boh. Come fanno a dire la temperatura che hai quando uno è sotto il sole? Che superi 37. Ma se sei sotto il sole? Vabbè. Comunque. Le persone che non faranno registrare aumenti della temperatura non verranno assolutamente identificati, ma per evitare il contagio durante una pandemia, soprattutto per i tanti asintomatici, riteniamo che serva a far ricorso tutto l'ausilio che la tecnologia ci mette a disposizione. Ma l'annuncio viene accolto con molta ironia ed incredibilità e sarcasmo sui canali social dell'ASL. Ma è uno scherzo, qualcuno dice. Vi prego, ditemi che hanno violato la pagina dell'ASL Roma 3, ha scritto Roberto Nicolini, facendo riferimento ad altre cose. Se il drone è in grado di farlo, mi potrebbe prenotare un elettrocardiogramma che sono mesi che il numero verde risponde che le agende sono chiuse, chiede Maria Grazia. Non imbocchiamo anche questa, dice Luciano, si rischia di terrapiattismo di ritorno. E Francesco Zuffa scrive, mi chiedo cosa sia questa idiozia, non potevate spendere i soldi in un'altra maniera? Ma l'ASL Roma 3 sul versante dei costi ci tiene a rassicurare i contribuenti. Non spenderemo nulla. Il progetto ci è stato offerto in via gratuita e promozionale. Mi sembra... Dico, è una cosa incredibile, no? Che un drone dall'altezza può monitorare tutte le temperature delle persone che passano sotto. È una roba da Blade Runner, no? Vi ricordate quel film leggendario Blade Runner. Va benissimo, ma va anche bene. Però se siamo così futuristici non ci possono essere i cinghiali, gli ungolati setolosi in giro per Roma. Non si può fare dei decreti escludendo metropolitane, treni e autobus perché non si sa come controllare il Green Pass. E però poi c'è il drone che da 30 metri ti segnala e arriva subito un'equipe di medici col camice. Lei, lei mi deve rendere conto. Pei conto, se non occupo mio zian, tu ne ha lost. Ecco, insomma, cosa vi devo dire? Se l'Italia funzionasse come questo drone saremmo un paese incredibile, eccezionale. Però l'Italia funziona a tratti, ogni tanto. Bene, non so voi cosa ne pensiate di questo drone che vi controlla la temperatura in spiaggia, no? Immaginate, voi siete sotto il sole e che vi misura la temperatura in spiaggia. 45 gradi! Il signore lì, in prima fila, sull'asdraio che prende il sole, 45 gradi! Prendetelo! Prendetelo! Ma dai, ma come si fa? Che tecnologia ha questo drone per misurare la temperatura a distanza di 30 metri su una persona che si sta prendendo il sole o sta camminando sotto il sole o è in acqua con le spalle tutte ustionate perché non si è messo la crema solare? Bah, realmente non so che dirvi. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie!